Eccoci Boh, c'è problemi su Twitch stasera ragazzi io sono un trottini in più ciao ciao buonasera a tutti ancora buonasera a tutti dobbiamo farlo conoscere questo canale è addirittura orale allora vediamo un po' se parte perché qua mi sta dando dei problemi vediamo un po' ciao a tutti che ricordi bellissimi con l'anteprima ciao Santec Santec79 ciao 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 e vabbè chi non vi dico niente ragazzi non vi dico nulla eridium01 ciao ciao 100 100 100 ci sono problemi su Twitch ho finito di vivere ciao eccoci qua eccoci qua siamo venuti su Twitch a fare una scorrivanda tutti quanti insieme vediamo se parte che è tutto a posto se ci sono problemi allora il grande maridella senza offesa vabbè però è per far contenti un po' tutti perché tanti ci seguono anche da Twitch capito allora quanto è alto vediamo quanto è alto il volume vediamo eh con versioni ST si parla di un po' diversi della versione Arcade si esatto è vero è vero è vero allora eccolo qua Saccuplenda si dinamite Dux un po' più difficile rispetto alla versione da sala eh rimasti su Twitch 10.000 10.000 punti vediamo un po' Alex che acquisizione di immagini usi per cosa per per streammare che ho una mecoi per streammare allora per streammare uso OBS Niente ragazzi non me lo ricordavo così difficile oh porca puttana imbestialita lega retrofemme sono anonimi la versione autistica guarda guarda che botte che te pigliasse un colpo comunque l'amica ragazzi tira eh tira sempre perché porco niente 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 sono una capra veramente a dinamite Dux sono veramente un caprone assurdo e guarda la madonna cioè gli sparo Alex si è perso ma perché non mi sentite ragazzi si non mi sentite si speriamo no maridella eh ditemi chi è maridella perché non lo so un po' lenta eh vabbè ragazzi però insomma dall'amica non è che ci si poteva aspettare chissà cosa però comunque boss boss io sento e vedo bene succuplenda bene stuccare stuccare come un po' come un po' vicino niente non c'è m'occhiappa usa il super super liquidator che ho fatto sono cascavo ah c'erano le scale niente 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 c'erano le scale che invece sono andato giù c'è un follow ragazzi marza power ciao marza power grazie per il follow pure qua mi pare difficilino eh questo ragazzi ci vorrebbe un sequel c'ha ragione c'ha ragione pipasi esatto allora cambiamo gioco tutti i meriti di cambiare gioco allora allora questo ragazzi è un gioco che io ho sempre amato poco pochissimo conosciuto molto poco conosciuto più che difficile esasperante mio fratello dico ma la sfiga vuole che partisse ma mi sono perso un capolavoro su 64 non credo però eccolo Marco Durrigan ciao ciao buonasera buonasera Marco questo ragazzi è un gioco assurdo che però io ho giocato veramente ma veramente tanto ho fatto anche la recensione non so chi è che se la ricorda quando l'ho fatta sul canale e questo è Elephant Antics vediamo vediamo un po' qui su Twitch mi ha fatto vedere non significa questo ragazzi l'ho trovato su un gioco l'ho trovato su un dischetto praticamente che erano in quei dischetti che si vendevano all'epoca in edicola anche per amiche è uscito voi zenne no assolutamente no bestemmia oh porco diavolo allora questo ragazzi ci ho perso veramente tanto tempo dietro l'audio è un po' alto ok abbassiamo ho abbassato vediamo se adesso è meglio esatto l'elefante che deve andare a trovare la famiglia in Africa ti ricordi Fabio che ho fatto la recensione di questo guarda che stronzo ti ricordi Fabio i peccati che ci ho detto con questo gioco ciao 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 tec ciao tecnogas no tec scusa emu ciao ciao emu ciao buonasera prima perché abbiamo fatto la serata e porco diavolo serata amica l'abbiamo fatta su youtube c'è stato un sacco di 100 un attimo eravamo quasi di 100 capito emu cose veramente dell'altro mondo e allora tanti mi hanno detto passiamo su twitch famo una mezz'ora anche su twitch e allora sono venuto anche qua a rompere scatole su twitch ciao maridella buonasera buonasera buonanotte a te grazie grazie per avermi eseguito fino alla storia abbiamo un po' di cecchiappo non cecchiappato mazzamoli a tutti grande ali metti sillibiti non me lo ricordavo dio esasperato non me lo ricordavo veramente esasperated god sarebbe no dio esasperato questo ragazzi è un gioco denna la nazionale nostra e chi la vuole io non seguo il calcio ragazzi quindi che te pigliasse un colpo mi ha ammazzato un'altra volta esasperated god ragazzi bellissima dio esasperato ammazzato un'altra volta porco indiavolato bestia rara che so che non so altro sono una bestia proprio allora barriera vediamo se la fama ammazzato il cazzo del boss allora qua c'è il boss no 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 niente mi ha ammazzato perso perso andiamo a mettere un altro gioco ragazzi salutiamo tutti quanti a emu ragazzi perché ci è passato a trovare il grande emu allora vediamo 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 che si può mette a me mi piace big nose vediamo intanto non c'ho più le sigarette finite esasperated god ragazzi oppure come ho detto prima dio ortopedico resto qui mica vado via grazie emu sto guardando se mi mogli ma mandavo qualche messaggio strano tipo oh porco viene a viene a letto porca puttana stavo cercando di capire quello no no ancora tutto bene allora bevendo ogni gioco diventa bello come le donne quando sei imbriaco e c'è ragione andrei che gioco ho messo non lo so però non parte quindi io direi di mettere vediamo questo scusate lo scrivo ma ci vogliono schede acquisizioni diverse scusate ma in che senso schede acquisizioni diverse diverse di cosa che ho ma non ti ho capito per stremmare su youtube o su twitch non ti ho capito quello che vuoi dire vediamo vediamo infatti uso uso abs assolutamente si 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 uso abs cambio soltanto la chiave stream per youtube o per twitch il grande international karate plus ragazzi questo è veramente un gioco che ha fatto la storia marco turri can dice il mito a sabello gioca non sarebbe male guardate che animazioni ragazzi bellissime amigizie distrutte allora eccolo qua io so il bianco eh che ho fatto me so giravo no grande come cazzo si fa grande quanto sto tre punti quattro punti niente ma ho senza nemmeno passata al via white and blue are best red is out senti che musica guarda guarda che bastonale che è malato se io fu a capì i tasti grande 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 ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto grande sound blaster è vero è vero è vero allora reflect bolts for e non ho letto wow a prima l'unico difetto che viene troppo grande è occupare troppo spazio aspetta un attimo scusate ragazzi ma c'è una signora di sotto che mi chiama cambiamo gioco che mi chiama io ho detto piano 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 allora vediamo vediamo eccola eccola giulius ciao ciao stasera hai provato me li contai andrea e niente c'è un altro follow giulius d'angelus ciao grazie per il follow amico aspetta che c'è mia figlia che mi chiama aspetta aspetta un attimo scusate e niente ragazzi sto attendendo mia figlia ma non mi risponde scusate e scusate ragazzi vi chiedo scusa per interruzioni ragazzi però c'ho mia figlia che sto aspettando che torni e nome torna allora sono un po preoccupato alex is back si ma ha detto alle 11 torno alle 11 35 il grande flashback grande emu tutto a posto emu non la famiglia è la famiglia esatto 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 non si può non si può lasciare indietro si si tutto ok dai sono contento sono contento emu per fortuna che mi fiolgia su un anno e mezzo esatto ma non ce n'avrà di giotto come mi figlia dopo il discorso cambia caro andrea inizio allora vediamo inserisci il disco 2 ciao luca buonanotte buonanotte a te alla prossima allora flashback disco 2 ok mettiamo il secondo disco vediamo un po' che dite domani sera fanno seconda seconda parte a fortuna l'albatross che ne ho ancora due fanno seconda parte domani sera dell'amica ragazzi oppure facciamo un'altra cosa facciamo monkey island 3 e continuiamo che dite che dite dai ditemi voi io faccio quello che mi dite voi eh se vi piace di più monkey island 3 facciamo monkey island eh boys and major riprendiamo monkey island voglio uscire di casa ahahahahah cosa marza facciamo praticamente la seconda parte dell'amica oppure riprendiamo domani sera fiolo dai nonni se l'alternativa è monkey monkey island tutta la vita allora allora niente ho sbagliato adesso scrive ragazzi un attimo allora vediamo vediamo cominciamo a capire i comandi salto niente quanto è bassa movimenti molto molto simili a il grande niente qua ho toccato qua ho toccato no mi si è bloccato niente ho toccato un tasto sbagliato porca mignotta dico sempre io allora eh niente ho sbagliato che ma non hanno toccato ragazzi ho fatto qualcosa no mi si è risettato niente niente eh voizen scusa ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato tasto non so che ho toccato domani ci giocate a tombi tanti lo lo simone tanti lo lo dicono dicono che sia il seguito di another world però allora guru meditation chi ho toccato porca e ora stasera sto facendo un casino ragazzi vediamo è Joe e Mac ce l'ho, ce l'ho come non ce l'ho, ce l'ho tutto, ce l'ho tutto, ce l'ho tutti, tutti, non ne manca assolutamente nessuno. Allora, vediamo un po', vediamo, vediamo questo dai, il grande Ghost in Goblins, tutti i giochi chiamano l'unità, è vero Andrea, guarda, sto d'accordo con te, li sto scegliendo veramente a caso, però i bio, però veramente tutti giusti, grande, io, conversione ragazzi, per amica, veramente giocata, ciao H-Style, ciao, 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 giocata veramente, veramente tanto, tantissimo, oh, niente, non abbiamo, dai, io, là, occhio, occhio, niente, non ci sto a chieppare, occhio, famo piano, occhio il boss, ok, prendiamo le chiave, eh, se Domenico le prendessi in mano, Last Battle ragazzi, è veramente un gioco bastardissimo, vediamo, vediamo, eh, papam, 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 faccio un salvataggio, giusto per, assolutamente, questa è molto molto più simile all'arcade, quella per Commodore 64 è più difficile, secondo me, è più carina l'armatura che l'imitante, eh, 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 dai, chiami dietro, vai, eh, mo l'hiamo fatto praticamente domenica pomeriggio, il buon Last Battle, Battle, è stato veramente, veramente, un delirio assoluto, intanto ho salvato, eh, salviamo, ancora, allora, vediamo, eh, eh, niente, aah, stucce il laccio maledetto, occhio, papapapapapa, papapapa, 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 occhio, occhio, e niente ammazzato subito non c'è stato verso allora ragazzi siccome mi figlia mi sta chiamando devo andare via porca eva mi dispiace ora perché e niente devo partire allora guarda facciamo l'ultimo per far contenti a tutti facciamo il grande così me lo bloccano immediatamente perché questo qua c'ha dei problemi di copyright con le musiche poi buonanotte ciao buonanotte buonanotte allora due minuti di questo ragazzi e poi dopo ci vediamo domani sera vediamo se farlo con la serata domani sera se farla con il buon amica oppure se fare monkey island 3 adesso vedo vedo come sono messo quello che riesco a fare sul modello si può smettere i codici per cambiare i nomi sul last battle e non lo so non lo so andrea non ci ho provato mai ciao ciao hyper ciao buonanotte a tutti buonanotte a te io solo dalla musica non vi dico niente solo dalla musica chi è vai tu rigandue dai 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 io devo sbloccarti gli sbocchi di sangue oh niente mi sono fatto un mazzaro immediatamente eheheheh perdo colpi sì 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 anche io anche io Emo vai tranquillo reti pure io sto perdendo veramente colpi eh niente 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 creo intanto il club ok niente lo continuo a ammazzare è vero emo è vero una spanna sopra tutti quanti secondo me cioè guardate anche il ponte l'effetto capito mi comincio a ammazzare niente mi continuo a ammazzare ragazzi senza veramente eh niente allora ragazzi dai ci sentiamo domani perché devo andare via veramente mi dispiace per aver fatto così poco su Twitch eccola qua infatti mi fia adesso mi fa scrivere allora ci vediamo ragazzi ciao Francesca ciao Francesca Zambanni Zambunni ci vediamo domani sera ragazzi su YouTube facciamo un altro pezzo di amica non so oppure facciamo il buon monchiare nel 3 devo vedere perché so mi vantimo da sistemare delle cose vi ringrazio a tutti e buonanotte a tutti ecco il cane comincia a bagliare ciao ragazzi buonanotte buonanotte grazie per avermi seguito fino adesso ciao 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 Andrea ciao buonanotte buonanotte a tutti ragazzi ciao e niente ragazzi ci vediamo domani sera perché devo andare via veramente perché la mia figlia mi chiama e scusate se ho interrotto così un po' bruscamente ci vediamo domani sera mi raccomando ragazzi tutti quanti su YouTube facciamo o monkey island 3 oppure continuiamo un po' di amica non lo so devo vedere buonanotte grazie grazie continuiamo a dire che cazzate no no non mi ero dimenticato fa ero che avevo lasciato aperto apposta ci vediamo domani mi raccomando buonanotte grazie a tutti ragazzi ciao grazie a voi ciao 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 Grazie a tutti.